È un punto di partenza e da domani si deve pensare a quello che dobbiamo andare a fare a Messina, che ci aspetta un'altra battaglia. 105 giorni dopo il Taranto è tornato alla vittoria grazie al 2-0 al Monopoli, risultato che addolcisce un 2022 sin qui privo di gioie e permette di compiere tre balzi a distanza di sicurezza dal quintultimo posto, occupato proprio dal Messina, prossimo avversario. Lo ricorda Andrea Saraniti, lo sottolinea Giuseppe Giovinco, i due marcatori del derby, raccontano lo stato d'animo dello spogliatoio. A nessuno ha fatto piacere trovarsi in questa situazione, quindi capisco il malumore della piazza rispetto al girone d'andata, però non è che noi ci divertiamo a non fare risultato, i primi che stanno male siamo noi giocatori. Quindi è comprensibile che la piazza sia contrariata rispetto a quello che abbiamo fatto all'andata. Allo stesso modo però è difficile in queste situazioni, perché comunque i risultati non venivano, una serie di cose, però non è che noi ci divertivamo in questo periodo, anzi i primi che stavamo male eravamo noi. Come è stato all'andata, doveva essere anche il ritorno. È stata colpa nostra? Sì, perché in campo scendiamo noi. Purtroppo la verità è quella. Vuoi una cosa, vuoi un'altra? Purtroppo ci siamo un po' fatti trasportare da un sacco di cose. In due compongono più del 60% del fatturato offensivo del Taranto. I numeri raccontano l'importanza di Saraniti e Giovinco. Quest'ultimo contro il Monopoli è andato a segno con un gol difficile anche solo da immaginare. È istinto, lì per lì ho visto la palla e ho detto la devo calciare. Non ci ho pensato, è una cosa di istinto, che fa parte del mio modo di giocare, quindi sono contento di aver fatto gol, ma soprattutto sono contento di aver vinto insieme a tutti quanti noi perché era troppo importante. Il 2-0 dello Iacovone come punto di partenza di un nuovo campionato allora da affrontare con lo spirito del girone di andata che aveva proiettato il Taranto in piena zona playoff e con la determinazione di chi, con quattro partite, recupero di Catania compreso ancora a disposizione, vuole chiudere entro il 24 aprile la pratica salvezza. Il nostro patto è dare una gioia alla società che è comunque appuntato su di noi, alla piazza che nonostante tutto le critiche e roba varia ci sta dando manforte fino a fine stagione. Lo spero e poi anche per noi stessi, per un amor proprio che indossare questa maglia non è cosa da tutti.